Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi faccio il video che è praticamente diritto in questo periodo, ovvero fammi vedere quali sono stati i miei acquisti al Salone del Libro di Torino 2017, dopo che c'è stato qualche giorno fa. Io sono stata a Torino soltanto la domenica perché non avevo la possibilità di andarci gli altri giorni, purtroppo venendo dalla Toscana l'unica soluzione per andare a Torino è molto dispendiosa, nel senso che vado sempre con la mia mamma, comunque nel momento in cui decidiamo di andare dobbiamo prendere un treno che è costoso, non possiamo stare un giorno solo perché a fare andata e ritorno in un solo giorno con il treno significa trascorrere pochissime ore al Salone e quindi dover prendere l'albergo per una notte, anche questo chiaramente aumenta le spese della giornata che si aggiungono a quelle dei libri che sono una spesa a parte, ecco. Quindi in ogni caso, due anni fa c'ero andata con la mamma facendo appunto così, prendendo il treno e che oltretutto devo anche cambiare più di una volta perché non c'è il treno diretto da dove vivo io fino a Torino e abbiamo preso la camera d'albergo e tutto, invece quest'anno abbiamo deciso di cercare insomma di andare un po' a risparmio e quindi siamo partiti il sabato pomeriggio con il mio babbo, quindi con i miei genitori e la mia sorellina, una delle mie due sorelle, con il camper perché i miei hanno un camper, quindi siamo partiti il sabato abbiamo dormito praticamente a 5 minuti a piedi dal salone e la mattina dopo la domenica siamo potuti entrare al salone del libro eravamo proprio tra i primi in fila e girare per tutta la domenica per la fiera e poi a una certa ora tornare a casa poi vabbè, passiamo sopra, tralasciamo il fatto che a ritorno il camper ha forato una gomma, quindi in autostrada ci siamo dovuti mettere a cambiare anche la gomma del camper quindi siamo tornati a casa tardissimo, però insomma queste cose succedono allora, io ho girato per la fiera in realtà evitando completamente le grandi case editrici e grazie alla lezione imparata due anni fa quando appunto c'era venuta la prima volta quindi non sono neppure entrata da Mondadori, Giunti, Newton Compton addirittura non sono andata nemmeno alla Fazzi e alla Neripozza che nonostante mi piacciano molto ho deciso di evitarle completamente perché i libri di queste case editrici sono sempre davanti ai miei occhi in tutte le librerie nelle quali vado, ecco, quindi non aveva senso mettermi a cercare a comprare libri che posso comprare quotidianamente qui dove vivo io e quindi mi sono dedicata soprattutto alle piccole case editrici che trovavo sparse qua e là soprattutto ai margini della fiera ho comprato quattro libri per me ed uno per il Maristino sono molto contenta di quello che ho comprato perché erano cose che altrimenti ecco non avrei mai trovato inoltre, altro avvenimento importante è stato il fatto che ho finalmente conosciuto di persona Antonella del blog, pagina Facebook, gruppo Facebook che si chiama If you have a garden in the library, you have everything you need ve lo lascio come sempre sotto, vi lascio tutti i link perché è una persona fantastica e sono stata molto molto felice di esserci trovate tutte e due la domenica per potersi conoscere cominciamo il primo libro di cui vi parlo è La vacanza delle donne di Luigi Compagnone della case editrice Avaiano Editore in questo caso la case editrice aveva proprio un piccolo banco però mi aveva incuriosita questa serie di librettini piccolissimi e leggendo la trama di questo ho deciso di acquistarlo praticamente la trama è siamo in un paesino italiano dove appunto si vive un po' all'antica si lavora, si vive per la casa e la famiglia e dove ci si riproduce essenzialmente e all'improvviso un virus particolare attacca tutte le donne che quindi a causa di questo virus che poi non è un virus è semplicemente un'epidemia ecco le donne non riescono più a giacersi con i propri mariti questo quindi scatenerà una serie di eventi all'interno del paese che sfoceranno addirittura in una guerra chiaramente il tutto è reso in maniera insomma anche ingrandita, ingigantita, esaltata ma per far capire quanto una cosa del genere potrebbe effettivamente mandare il mondo sotto sopra quindi insomma mi sembrava carino, divertente e soprattutto di quelli che poi alla fine ci fanno anche un po' riflettere e l'ho preso secondo libro preso al salone è stato La casa delle parole di Cécile Coulomb credo della casa editrice casa editrice non ve lo re, ve la dico Keller Editore ok quindi niente ho preso anche questo libro in realtà dopo lo vedrete sono tutti libri con non so perché evidentemente mi attraggono di più libri con queste copertine un po' ruvidosette un po' rustiche insomma in questo libro siamo in un mondo distopico in cui le autorità per diciamo mantenere l'ordine sociale utilizzano la letteratura nel senso che decidono di tenere sotto diciamo sotto osservazione comunque sotto controllo tutte le persone radunandole in grandi stadi dove delle persone leggono dei brani da alcuni insomma libri questo praticamente gli permette permette allo stato di avere il controllo completo sulla popolazione che ascolta avidamente queste parole perché è la ricerca di grandi emozioni e le grandi emozioni derivano soltanto da questo e soprattutto ecco gli fanno ascoltare soltanto ciò che le autorità effettivamente vogliono che ascoltino le persone poi sono tenute sotto controllo da una serie di agenti che sono rigorosamente analfabeti uno di questi che questi agenti non hanno neppure un nome ma hanno soltanto un numero uno di questi purtroppo non ricordo insomma un incidente succede qualcosa insomma finisce in ospedale e qui conosce una giovane donna che per intrattenere i bambini legge loro dei libri e questo cambierà un po' il suo modo di vedere il mondo di vedere le cose e lo destabilizzerà destabilizzerà insomma la sua idea di equilibrio l'idea del mondo che aveva avuto fino ad allora e la trama mi sembrava interessantissima si parla di libri di lettura insomma l'importanza della letteratura in un mondo un po' particolare che non sono abituata a leggere nei miei libri quindi probabilmente può essere interessante infine ho preso due libri presso la stessa casa editrice che appunto mi ha consigliato Antonella io la ringrazierò per sempre perché mi è piaciuta moltissimo il primo allora la casa editrice è Lorma perché mi è piaciuta molto oltretutto c'è da dire questo c'è da dire che mi è strapiaciuta perché le persone era un piccolo stand dove chi era lì dietro il banco o comunque tra i libri aveva la vera passione negli occhi nel senso che quando vedevano qualcuno interessato a qualche libro andavano lì perlomeno da me sono venuti e mi hanno consigliato un libro rispetto ad un altro parlato dell'autore parlato del perché avevano deciso di pubblicare quel determinato libro insomma si vedeva proprio la passione che c'era dietro a chi svolgeva quel lavoro e quando succede così immancabilmente io sono invogliata ad acquistare il libro ecco e molto spesso non rimango neppure delusa quindi il primo che ho acquistato è stato l'altra figlia di Annie Ernaud presumo perché è francese e praticamente questa è una lunga lettera che una donna scrive perché cosa è successo? quando era piccola ascoltando di nascosto una conversazione ha scoperto che due anni prima della sua nascita i suoi genitori avevano avuto un'altra bambina che era morta piccolissima questo diciamo aveva segnato l'infanzia e la vita di questa ragazza come se ci fosse stato un prima e un dopo l'aver saputo di aver avuto una sorella quindi questa è una lunga lunga lettera che lei immagina di scrivere a sua sorella parlandole della sua vita di come sta vivendo il fatto di non poter condividere la sua vita con una sorella e parlandole del suo privilegio di essere amata perché appunto in vita secondo me potrebbe essere una lettura veramente introspettiva interessante e non lo so mi aveva proprio incuriosito moltissimo il fatto che lei decidesse di parlare del privilegio di essere amata quindi credo sicuramente che mi piacerà l'altro libro preso a la fase di Tice Norma è Marten il romanziere di Marcelle e me questa è una raccolta di racconti io se mi seguite da un po' lo sapete che praticamente non leggo mai i racconti questa però appunto quando questo ragazzo si è messo a raccontarmi la storia dell'autore di chi avesse ispirato di come fossero le sue storie mi sono fatta convincere che l'ho comprato queste sono appunto una raccolta di racconti racconti molto particolari racconti molto divertenti ironici che evidenziano in maniera carina e divertente i peccati degli uomini ma che allo stesso tempo come c'è scritto nella trama ci fanno anche provare quasi pietà per i peccatori ecco che ci ritroviamo ad analizzare l'umanità nella sua forma più semplice nella sua forma più quotidiana ridiamo a volte delle piccole disgrazie che accadono alle persone ma allo stesso tempo ci rendiamo conto che il mondo così ironico e con questo sorriso amaro è in realtà molto reale ed è tutto ciò che ci circonda ecco io spero insomma di aver reso l'idea fatto stare comunque come c'è scritto anche nella trama un catalogo ragionato e ragionevole di casi limite per descrivere alcuni caratteri universali e non sempre usingheri della grande litigiosa famiglia degli umani quindi niente e mi aveva ispirata e poi ecco vi dico che all'interno c'era vabbè la cartolina di Marta Nero Manziere e di storie assassine di Bernard Chirini non lo so come si pronuncia comunque questo libro l'ha comprato la mia sorella perché appunto dice che questo autore si sia proprio ispirato a Marcella e me ecco quindi diciamo che erano in qualche modo collegate e ne abbiamo comprato uno io e uno lei infine l'ultimo libro comprato rido perché è un libro che fa ridere comunque l'ho comprato al maritino ed è Polo Villaggio 7 grammi in 70 anni lo disse di un povero obeso allora perché ho comprato questo libro perché prima di tutto l'ho presa a libraccio l'ho trovato a libraccio insomma a 5 euro comunque prima di tutto mio marito è un grande fan di Polo Villaggio gli piace molto la comicità ecco di Polo Villaggio fin da ragazzo colleziona i libri pubblicati da lui e li abbiamo qui a casa nostra adesso e quindi sapevo che questo non ce l'aveva oltretutto siamo proprio entrambi appassionati dei film di fantozzi tanto che io ce li abbiamo tutti scaricati e ci li guardiamo in vacanza ecco quindi proprio a noi piace piace ecco oltretutto questo libro si rifà praticamente al film con Verdone Pozzetto e per esempio anche questo è un attore che a lui piacciono molto Verdone piace molto anche a me e che appunto si intitolava 7 chili in 7 giorni e allora mi è sembrato carino insomma anche rimando a questo film con 7 grammi in 70 anni un libro che sicuramente sarà divertente spassoso insomma che prende un po' in giro chi è troppo fissato anche con la linea e con il peso in maniera sempre buonaria come sa fare Paolo Villaggio buonaria ma alla fine anche molto sottile e quindi niente sicuramente lo leggerà in pochissimo tempo però so che l'ho soddisfatto bene ragazzi questi sono i libri che io ho comprato al suono del libro fatemi sapere se ci siete stati quali giorni che cosa avete comprato niente con questo io direi che posso salutarvi e grazie come sempre per i commenti vi aspetto anche sotto questo video e noi ci vediamo prestissimo con un altro ciao